E' stato un elicottero del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza a notare una strana colorazione delle acque di un affluente del fiume Foglia. Dopo aver segnalato l'anomalia ai carabinieri forestali di Macerata Filtria, i militari sono intervenuti sul posto a Mercatale di Sasso Corvaro, dove hanno verificato che nel fosso di Cabargiano confluiva del liquido biancastro proveniente dallo scarico di una ditta artigianale situata poco più a monte. Le successive indagini hanno permesso di accertare che l'inquinamento era la conseguenza del malfunzionamento dell'impianto di depurazione che stava provocando il percolamento delle acque del processo di lavorazione. Gli analisi effettuate dai tecnici dell'ARPAM hanno evidenziato in seguito la contaminazione del fosso, rilevando la presenza di vari composti chimici, tra cui sostanze pericolose come cromo, nickel, rame, piombo e zinco. Le stesse analisi però hanno escluso contaminazioni nel tratto a valle del fiume Foglia. I carabinieri forestali hanno quindi denunciato il legale rappresentante della ditta per scarico di sostanze pericolose, il quale ha dimostrato fin da subito la disponibilità nell'eseguire gli interventi necessari. Tale violazione è punita con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 2.500 a 26.000 euro.